ciao a tutti ed eccoci tornati in questo nuovo video con il secondo uovo balocco andiamo a scoprire qual è il paese di oggi probabilmente sarà un po più veloce questo video rispetto al precedente in quanto ovviamente vi faremo vedere direttamente la sorpresa dell'uovo vi facciamo giustamente migliorare la carta che conserva l'uovo io penso che un'opera non si può fare perché ti può mettere una cosa a forma di uovo e rifare la confezione però non si può fare perché l'uovo lo spacco devo inventarmi qualcosa comunque potrebbe venire più utile ok la crepa no ancora uguali no probabilmente credo che siano tutte le uova forse diteci sotto nei commenti se avete trovato sempre questa cosa oppure no comunque ragazzi praticamente sono identici a quelli dell'altra volta sono identici a quell'altro dell'altro uovo insomma io spero che si possa trovare qualcos'altro di diverso perché sennò non ha senso comprarne tanti nel senso speriamo che magari se magari ripeto qualcuno di voi li trova scrivete sotto nei commenti se avete trovato l'ho già detto io ah l'ho già detto te se avete trovato qualcosa di diverso comunque sono uguali questi comunque è arrivata dopo perché è troppo in quarantena e boh ragazzi ah vi faccio vedere dove li ho appesi gli altri guardate qua e adesso faccio così uno qua e uno qua se li avete presi magari diteci cosa fate di queste mollette iscrivetevi anche nelle ragazze se non le avete ancora fatto un like a questo video se vi è piaciuto se vi è stato utile ricordo che queste uova si possono trovare alla Iperol perlomeno questa è dove la trovate io ma in Lombardia in Lombardia probabilmente si troveranno anche la Simpli insomma magari fatecelo sapere sotto nei commenti vedete anche magari nell'Iper che è l'Iper è un negozio veramente gigante insomma vedete se si trovano anche lì tra l'altro qua penso siano uscite questa settimana perché settimana scorsa non c'erano quando è andata per la Spera esatto parliamo della settimana prima quella del 3 aprile praticamente esatto bene ragazzi ci vediamo alla prossima ciao 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 ciao